Avendo fatto questa cosa nella totale sicurezza per il Beta Splendence, ho deciso di monitorizzare tutti i parametri, quindi monitorizzare sempre i nitrati, gli inquinanti, l'indice di inquinamento della vasca, NO3, ma anche il pH e il Kh. Non solo va fatta nell'assoluta sicurezza per questo Beta, ma essendo il Beta un pesce che inquina veramente poco, la quantità di piante presenti in questa vasca mi ha battuto praticamente tutti i nitrati. Come potete vedere in questo testa reagente, i nitrati sono praticamente pare a 0, è ovvio che un inquinamento basso può essere una cosa positiva, ma se sono 0 le piante possono andare in carenza. E questo è un problema perché poi le piante stesse metabolizzano i nitrati, quindi si parla di un circolo vizioso che va interrotto. Rimuovere il filtro me li potrebbe alzare e questa cosa va monitorizzata a distanza di pochi giorni. Anche se immagino che in mezzo a tutte queste piante l'attività di un piccolo filtro d'aria che c'era prima è del tutto superfluo. Ed è per questo il motivo per cui ho deciso di toglierla. Ok, il termoriscaldatore lo posso spostare verso l'angolo. Bene, sono passati circa 15 giorni e adesso riprendiamo i valori di pH e nitrati, giusto per vedere se c'è qualche novità. Ci sono volute tre gocce di reagente per il pH, quindi siamo un pH sul 3. I nitrati praticamente sono ancora sempre, in realtà sono 0 questi, ma non è proprio giallo-giallo, è leggermente sull'arancione, ma non arriva a 10 comunque come potete vedere qui. Quindi praticamente la funzione filtrante dal punto di vista biologico era soltanto superflua, ma le piante facevano il loro lavoro anche da sole, quindi il loro lavoro di filtro intendo. Quindi togliere il filtro da questo punto di vista non ha regato alcun danno perché i nitrati sono ancora bassissimi. Per quanto riguarda il pH siamo sempre stabili intorno al 6,5, però in realtà lo vorrei acidificare un po'. È da un po' che non faccio cambi d'acqua con acqua di osmosi, non aggiungo fogli o pinette di lontano, quindi potrei farlo ora. Magari un piccolo cambio d'acqua con pura acqua di osmosi del 10-20% e inserire degli acidificanti. Comunque in ogni caso non c'è stata nessuna modifica dei valori dopo 15 giorni. Ovviamente non è il veredetto finale, questo farò un altro controllo fra un'altra quindicina di giorni. Bene amici, sono passati esattamente 30 giorni, circa un mese, il beta è vivace e sta bene. Ho aggiunto qualche piantina che ora vi faccio vedere. Vabbè, praticamente ho rimesso la pistia, ora ve la faccio vedere. E come vedete qui ho incrementato la quantità di piante assorbitrici di nitrati. La pistia, secondo me, è proprio per eccellenza quella che dovrebbe assorbire più inquinanti in assoluto. Qualche spaziettino qui, come vedete, c'è sempre per permettere al beta di respirare. E ovviamente la pistia, ragazzi, purtroppo sta un pochino prendendo molto spazio e praticamente ha soppiantato la Limnobium. Lo vedete che è parecchio sofferente. E vabbè, non so se rimuoverla a questo punto e lasciare solo la pistia. Lo stesso vale per la Salvinia, la Tanz, che è questa qui. Comunque va bene. Beh, a conferma di tutto quanto, come vedete senza filtro, senza più niente, vediamo quali sono i valori. Ok, aspettiamo 5 minuti e confrontiamo il risultato. Però già si vede che praticamente è giallo, quindi sono nitrati bassissimi. Figuriamoci, io mi devo preoccupare della carenza di nitrati più che dell'eccesso. Quindi sicuramente il filtro, in questo caso, ha un ruolo assolutamente secondario. Non è più una cosa essenziale in questo sistema, è una cosa superflua. A questo punto prendo anche un pH per finire il test completamente. Quindi prendo 5 ml, 4 goce. Bene, chiaramente 6,5, come potete vedere. Quindi tendenzialmente acido, proprio come me l'aspettavo. Il KH è intorno al 4, 5, credo sia intorno al 4. E pH 6,5. Quindi assolutamente perfetto. Devo un attimo pulire il vetro anteriore perché si sono formate delle piccole alghette, quelle dei vetri praticamente, quindi devo un attimino dargli una spazzolata. Però vi garantisco che l'acqua è assolutamente limpida. Anzi, lo facciamo subito così vi dimostro questa cosa. Ecco qui, guardate ora com'è limpida. A parte c'è un po' di riflessi, però ci sono un po' di riflessi, però ora è tutta un'altra cosa, vedete? Ve lo faccio vedere appena si avvicina il beta. Se si avvicina, se vuole avvicinarsi, ve lo faccio vedere, se no... Eccolo qui. Vedete, l'acqua effettivamente è limpida adesso, era semplicemente sporco il vetro. Allora, questa è la mia raccolta personale di acqua piovana. Sono 4 tanniche da 30 litri. Tutta acqua piovana direttamente è raccolta dal cero, quindi è già filtrata soprattutto. Quindi acqua perfettamente pulita, ha KH che rasenta lo zero e un pH diciamo neutro acido. In ogni caso il KH mi interessa, che è praticamente zero, così come il GH siamo intorno tra il zero e il uno. Ho misurato i valori, quindi sono praticamente 30 litri l'una, sono 120 litri. Più questa da 10, sono 120 litri di acqua, praticamente di osmosi. Cerco di risparmiare anche sul consumo di acqua in questo senso, quindi raccogliendo la pioggia quando possibile. Cerco di evitare la raccolta dalle grondaie, quindi acqua che passa da tubature o zone che possono contenere catrame, sostanze così. E semplicemente dell'acqua raccolta nei mesi e nei mesi. Visto che i cambi d'acqua sono pochissimi, come vi ho spiegato ne faccio nemmeno uno al mese, del 20%. Quest'acqua qui mi basta per anche 6-7 mesi. Quindi questo è il mio metodo di raccolta per pesci dalle esigenze particolari come il beta e i gurami, questi qui che vogliono acqua e tenere acide. Per tutto il resto invece, che sono le caridine, tranquillamente, oppure per guppi se li avete, o pesci di acqua tendenzialmente neutro basica, potete usare tranquillamente l'acqua del rubinetto. Magari misurate la vostra acqua del rubinetto, perché non è uguale in tutta Italia. Dalle mie parti è abbastanza tenera, tenera per modo di dire. Stiamo parlando di un KH intorno al 10-12, quindi comunque è dura. È dura, anche troppo dura, figuriamoci, per un beta. In ogni caso per le caridite c'è un po' di evaporazioni, quindi un aumento delle durezze inevitabile dopo un tot di mesi. Quindi vi consiglio ogni tanto di fare un piccolo rabocco con acqua di osmosi per riabbassare le durezze, perché magari dopo 10-11 cambi d'acqua del 10-20% abbiamo inevitabilmente con l'evaporazione un aumento delle durezze. Quindi vi consiglio ogni tanto di usare un pochettino l'acqua di osmosi o l'acqua piovana che vi ho detto.